ehi ciao da franco e benvenuto a questo training saldo e stralcio immobiliare andiamo un po a vedere le prime basi solide per poterti avviare anche te a questa fantastica carriera carriera professione perché saldo e stralcio una volta che lo saprai mettere in atto che saprai utilizzare tutti i sistemi diventa per te sicuramente una professione tanto ti do il mio benvenuto mi chiamo francesco gentile se non mi conosci sono lo sviluppatore del franchising per immobiliaristi di immobiliari stars quindi andremo insieme a scoprire in questo training quali sono i vantaggi di comprare un immobile attraverso il saldo e stralcio quindi andremo a vedere insomma i benefici e come si utilizza poi anche questa strategia bene tieniti forte che iniziamo allora cosa devi sapere rapidamente il saldo e stralcio è un procedimento extra giudiziale quindi che coinvolge la liquidazione di una proprietà immobiliare a prezzo scontato quindi di solito queste proprietà sono gravate da ipoteca di primo grado perché magari il debitore ha fatto un mutuo quindi sono di solito gestite poi da istituti di credito oppure società di cartolarizzazione questa situazione qua ci apre a degli scenari veramente veramente importanti in quanto possiamo mettere in atto una procedura prevista dal codice civile e avviare una trattativa esclusiva privilegiata con il debitore e con i creditori intanto ti volevo dare dei consigli se ti sei già iscritto al mio canale attiva la campanellina altrimenti iscriviti al canale youtube attiva la campanellina e metti un like su questo video perché così in automatico youtube ti consiglierà di vedere altri video sul saldo e stralcio perché se mi metti il like quindi ti farà vedere altri video anche non miei ovviamente se poi vuoi un primo regalino scrivi nella sezione commenti attivata la campanellina e io ti invierò il mio corso saldo e stralcio per investitori è un corso che anni fa era in vendita adesso lo consegno in omaggio e diviso per moduli alle persone che hanno piacere di iniziare a studiare qualcosina di un po più avanzato senza spendere dei soldini quindi basta che scrivi ho attivato la campanellina e io ti manderò il link del corso e te lo guardi subito allora il primo vantaggio ovviamente il prezzo scontato si fa attività di saldo e stralcio o meglio un investitore immobiliare fa attività di saldo e stralcio proprio perché vuole ottenere uno sconto sul normale prezzo di mercato per poi eventualmente ristrutturare se è il caso e vendere all'appartamento con generando un profitto questo è il primo vantaggio che ti permette il saldo e stralcio poi è un'opportunità di investimento ci sono investitori che hanno piacere anche di mettere a reddito le loro proprietà un conto è comprare un immobile nel mercato libero che vale 100 a 100 mila euro hai già fatto un ottimo investimento altro discorso è prendere questo immobile anziché pagarlo 100 mila euro pagarlo magari 60 mila euro è ovvio che la tua resa locativa annua è molto maggiore quindi sono attività che possono essere utilizzate per fare business sia di flipping cioè comprare e vendere sia per mettere a reddito poi ampia scelta di proprietà se vivi in una città grande è ovvio che ci saranno anche molte esecuzioni immobiliari quindi avrai la scelta di poter decidere su quale operazione concentrare insomma tutte le tue attenzioni risorse eccetera e quindi periodicamente ne escono diverse sarai tuo poi a valutare quando sarà il caso di fare un saldo e stralcio su una determinata esecuzione immobiliare poi il vantaggio numero 4 possibilità di negoziazione i players in campo sono ovviamente a conoscenza che un investitore immobiliare quando inizia una trattativa di saldo e stralcio lo fa per vivere lo fa per campare lo fa per business quindi c'è disponibilità da parte dei creditori ad avviare una trattativa con uno sconto importante in quanto devi sapere che il creditore non ha certezza di recuperare tutto il suo credito attraverso l'asta immobiliare perché l'asta immobiliare è un po una roulette non si sa mai come va a finire quindi trovarsi davanti un investitore pronto ad acquistare immediatamente mette ovviamente a soggezione la controparte che dice beh insomma se non accetto la sua offerta magari c'è un'asta fra quattro mesi e se dovesse andare a deserta dovrei attendere ulteriori sei mesi e subire un ribasso del 25 per cento previsto in caso di mancata giudicazione dell'immobile quindi hai possibilità di negoziazione vantaggio 5 potenziale di profitto hai delle elevate potenzialità di profitto va da sé che questo è un training base e quindi non tiene conto del fatto che tu devi anche conoscere i prezzi di mercato perché se tu fai un'offerta a 100 e il creditore accetta ma poi scopri che l'immobile vale 70 è ovvio che hai sprecato soltanto denaro e energie numero 6 opportunità di crescita patrimoniale i miei immobili acquistati nella zona della valpolcevera genovese la maggior parte sono oramai tutti in locazione e sono stati acquistati prevalentemente attraverso procedura di saldo e stralcio se poi frequenterai i corsi gratuiti se me l'hai già richiesto e quelli più avanzati vedrai anche poi tutte le proprietà che ho acquistato con il saldo e stralcio con la documentazione originale che attestano poi che questa queste mie offerte sono state accettate numero 7 trattativa privilegiata se vuoi comprare a un'asta immobiliare è ovvio che non c'è nessuna trattativa ti metti lì seduto con altri concorrenti e vince chi fa il rilancio maggiore qui invece hai una trattativa privilegiata perché nella massima riservatezza contatti le parti poi vedremo nei video successivi siete attivato la campanellina come si contattano le parti e poi inizia a dire la tua è ovvio che sei tu e la controparte non tu e tutti gli investitori parte che partecipano a un'asta immobiliare poca concorrenza ti assicuro che molti conoscono il saldo e stralcio come lo stai conoscendo tu adesso ma non approfondiscono e quindi nella tua città ci saranno al massimo ovviamente se una città di 50 100 mila abitanti 5 o 6 bravi investitori di saldo stralcio quindi non vi pesterete mai i piedi perché magari al concorrente 1 gli interessa un taglio da 800 mila all'altro gli interessa un'altra via nella tua città e così via quindi la concorrenza è veramente ridotta e c'è possibilità di avviare quindi una trattativa esclusiva poi numero 9 il debitore dalla tua parte se tu compri un immobile all'asta l'esecutato devi mandarlo via uno sfratto esecutivo in un certo senso ti odia ok non ci sono vie di mezzo qui è proprio il debitore che ti deve autorizzare attraverso un documento chiamato delega che se segui fino alla fine del video te ne farò un omaggio e quindi il debitore è proprio lui che ti dice ti prego aiutami ti prego non te lo dice però ti do la delega parla tu con la banca vedi se mi stralciano tutta la posizione in cambio io ti darò la proprietà dell'immobile numero 10 tutela notaria al contrario ad esempio di un'asta immobiliare dove tu acquisti accettando tutte le indicazioni scritte in perizia il notaio è quello che conclude l'attività di saldo stralcio e si conclude come una classica compravendita immobiliare quindi con tutti i controlli del caso difformità eccetera da parte del notaio e questo ti assicuro è tanta roba bene prossimamente se hai attivato la campanellina e messo like a questo video ti arriverà poi la notifica del prossimo training che parlerà in maniera un po più avanzata facciamo uno scalino alla volta di saldo stralcio e di come si contatta l'esecutato e di come si raccoglie la delega va bene per poter parlare poi con la banca chiamiamo la banca perché poi i players sono ormai diversi non è soltanto la banca il tuo primo interlocutore quindi se vuoi un ulteriore omaggio scrivi delega nella sezione commenti e per riceverla te la manderò ovviamente con un link gratuito te la potrai scaricare e salvare in attesa di guardare il prossimo video quando ti arriverà la notifica così potrai capire come si utilizza la delega intanto te la mando in anticipo bene ci vediamo nei prossimi contributi video buon business ciao da franco